Pronti! Ti ricordi quel viaggio di cui avevamo parlato? No, il campeggio abbandonato quello in Olanda Bravo! Grande! Ti porto in tre regioni diverse dell'Olanda e anche attraverso la foresta Partiamo venerdì! Partiamo venerdì! Partiamo venerdì! Partiamo venerdì! è iniziato tutto per caso in quei momenti nella vita in cui ti fermi e non capisci più dove sei raccontare storie è il nostro mestiere in questi anni ne abbiamo raccontate tantissime siamo stati in decine di luoghi diversi abbiamo conosciuto centinaia di persone abbiamo sempre cercato di spingerci oltre altrimenti quelle verità non sarebbero mai venute a galla ma ti trovi a un punto dove non ti basta più e allora parti parti per un viaggio parti per toglierti da dove sei parti per raccontare qualcosa mille ricerche su internet persone contatti tutto per trovare quella storia per raccontare qualcosa che nessuno vi avrebbe mai raccontato prima ma questa storia no non è andata come avremmo pensato mi chiamo luca sono un pubblicitario di bolzano e e penso che tutto quello che vediamo potrebbe non essere reale sono alan vengo da torino e faccio il giornalista pubblicista non è tanto raccontare il mondo a fare la differenza ma come si decide di raccontarlo nella prima sono capaci tutti ma è per la seconda che serve davvero uno sguardo è andato per caso stavamo sul delta del po per un altro servizio sulle orme di dante e ho fatto a luca il classico giochino quello della spiga nell'orecchio che sembra che è la mosca e abbiamo fatto una foto eravamo in questo albergo a marina di ravenna piscina avevamo con noi per quest'altro lavoro una piccola gopro e stanchi morti della giornata abbiamo detto vabbè giochiamo ci siamo messi a giocare in piscina con la gopro l'abbiamo lanciata abbiamo fatto delle foto sott'acqua veloce come un treno che sferraglia a volte decidi di solcare l'orizzonte cercando con lo sguardo storie lontane senti dentro il pungolo continuo infuocato di provare qualcosa di mai fatto camminare dentro i chilometri ascoltare nuove voci indagare dove altri hanno ancora il timore del giudizio dell'aspettativa del dover per forza entrare nella pancia di qualcuno come un treno in galleria quando non capisci se sia meglio raccontare o essere raccontati percepire dentro di sé le prospettive accettare ogni tanto che gli uccelli non cantino sempre e solo per sorprendere te o me e che la natura non fiorisca sempre nell'esatto modo che pretendi anno dopo anno dopo anno dopo anno essere spettatori di qualcosa che sia un film o la propria vita è sempre quello la magia di guardarsi, ascoltarsi, sentirsi grazie a tutti grazie a tutti bene se questa fosse la storia che avresti voluto sentire da noi io sarei come dire si vede morto invece è questo l'attimo esatto che prendiamo la storia che volevi e la rompiamo come un bicchiere di cristallo è qui adesso che finisce il fuoco d'artifizio che ci ha ingannato con le sue luci illuminando un cielo a giorno mentre in realtà era molto più buio into the wild non è una storia a caso ma è la storia di come chiunque oggi possa farvi credere in una storia guarda è la storia di non la storia di ricorda è un'attime di ricorda è un'attime di ricorda into the wild che poi ti chiedi perché hai scelto un nome che alla fine è una cagata è nato per caso stavamo sul delta del po per un altro servizio e ho fatto a Luca il classico giochino quello della spiga nell'orecchia che sembra che hai la mosca abbiamo fatto una foto e l'abbiamo semplicemente elaborata facendo finta che fosse una locandina di Netflix e il primo titolo che ci è venuto in mente è stato into the wild e l'abbiamo pubblicata sui social ok stop per prima cosa chiediamo scusa a Netflix perché l'abbiamo tirato in causa e vi spiegherò perché e come seconda cosa chiediamo scusa a voi probabilmente vi sarete sentiti presi in giro ma dovete sapere che questo è un esperimento una sfida che sapevamo di vincere questo esperimento è volto a dimostrare che tecniche precise di comunicazione di manipolazione e di condizionamento riescono a suggerire un film che non esiste e che avete solo nella vostra testa nel corso di questa avventura scoprirete come attraverso delle tecniche di manipolazione molto precise usate nel campo della pubblicità e del neuromarketing si possa portare la mente di una persona a vedere cose che non ci sono a sentire cose che non ci sono e a percepire realtà che non esistono ma andiamo per ordine abbiamo scelto Netflix per una semplice casualità sembrava carino, gogliardico ecco perché il logo di Netflix è per tutti noi quello che ormai è la televisione, il cinema sei su Netflix e sei davvero un grande e quindi per fare una locandina che faceva ridere beh, ci stava tutto no? perché poi è quello il punto in cui la risposta dei social ci ha fatto capire che avevamo fatto partire qualcosa ed era partito così senza che nemmeno lo volessimo però una volta che è una roba a parte ci stai dentro avevamo con noi per quest'altro lavoro una piccola GoPro e stanchi morti della giornata mi hanno detto vabbè giochiamo ci siamo messi a giocare in piscina con la GoPro l'abbiamo lanciata abbiamo fatto delle foto sott'acqua e siamo passati come dei morti sulla superficie ma non vi racconterò mai perché è nata un'altra locandina ed è nato anche un teaser con il morto che passava e a quel punto eravamo fottuti non volevamo fare tutto sto casino noi ma io sì siete voi che ci avete creduto subito quindi rientriamo con questa idea di into the wild e si pone il problema di far credere che stiamo facendo una cosa con Netflix primo problema è che Netflix non si incazzi che poi lui giochichia no? gli piace fare queste grafiche con il telefono giochichia e fa questa grafica cominciano a scriverci a tutti e due a chiederci no ma avete fatto un film su Netflix a tutti Grazie a tutti. Poi li perculiavo perché era divertente quel giorno lì e poi il giorno dopo a colazione si fa ma se facessimo davvero finta di fare un film e iniziassimo pian piano a non parlare più di Netflix ma lasciando intendere che sia su Netflix e l'abbiamo fatto. Io avevo un po' di paura a prendere il culo alla gente però è divertente. Decidiamo che il logo di Netflix deve sparire piano piano e non credo neanche che ve ne siate accorti che è sparito dopo pochissime volte perché avete continuato a chiederci se ci sarebbe stato qualcosa su Netflix e anche di persona anche adesso che siamo ormai prossimi all'uscita. Mi chiedete se facciamo su Netflix e il barchio di Netflix non c'è da una vita. Luca trova una serie di modi per riproporvelo sempre senza che nemmeno lo sappiate. Va sempre tenuto conto il linguaggio. Ebbene la neurolinguistica ci insegna che possiamo condizionare la mente altrui attraverso delle tecniche ben precise. Il cervello umano processa le informazioni attraverso tre canali rappresentazionali, auditivo, visivo e cenestetico. E il condizionamento avviene attraverso la saturazione di ognuno di questi tre canali. Ma facciamo un esempio. Quando accendete Netflix siete abituati a sentire quel... Ed ecco che a livello auditivo c'è stato un ancoraggio. Sapete che sta per iniziare Netflix. A livello visivo invece siamo tutti abituati a vedere il logo di Netflix con questa bella N grossa, con questo rosso vivo. E quindi abbiamo deciso di giocare su questi ancoraggi visivi e auditivi. Ecco non potevo certo prendere il jingle di Netflix e riproporlo. E quindi abbiamo pensato bene di farlo girare al contrario. Perché? Perché la nostra mente è abituata a sentire quel suono anche se al contrario. Pertanto l'emozione che il vostro inconscio proverà sentendo il jingle di Netflix anche se al contrario ricorderà al vostro sistema neurologico qualcosa inerente proprio a Netflix. Dal punto di vista visivo siamo stati un po' più... stronzi. Non ci siamo solo limitati ad usare la stessa tonalità di rosso del logo di Netflix. Lo abbiamo inserito in ogni grafica. Lo vedi ma non lo vedi. Il tuo occhio non lo vede. Ma il tuo cervello abituato a vederlo sul tuo televisore lo riconosce. Alla grande. Per far credere che ci sia un film chiaramente bisogna creare dei teaser e dei trailer. Non è facile creare dei trailer e dei teaser di un film. Immaginate di un film che non esiste. Non avevamo neanche la storia noi del film. E ci siamo trovati e abbiamo detto ma andiamo a girare questi trailer dove Luca vede un video su Facebook di Mirko Caputo. Siamo qua sotto l'arcobaleno della cascata più bella che ci sia al mondo. delle cascate del Rio Nero e dice andiamo lì che le cascate sono il posto giusto per me che è sopra i vertigini. Oggi faremo delle clip e le faremo qui dove c'è una cascata che già di per sé è difficile da raggiungere. E iniziamo a costruire la storia in base a quello che ci succede. Quindi ci perdiamo veramente perché io mi fermo perché c'è una rampa di scale così ripidissime e io in quei posti non ci vado. Ogni singolo gradino è una coltellata alle mie vertigini. Madonna santa. Vuoi che vado a vedere se ha senso? Sì grazie perché se non ha senso io non vengo. Bravo. Mamma mia. Stiamo andando sulla cascata ed è ripidissima. A me non piace niente. Niente. È terribile. Guarda dove va. Nel trattempo. Vuoi fare una specie di video racconto? È quello che sto facendo. È quello che sto facendo. Siamo persi di vista da mezz'ora e non sai più dove c'è altro sono. Guarda che è libero. Stiamo salendo queste scale che sono ripide. Ci siamo persi. Ci siamo persi io e Luca. Merda. Provo a salire. Merda. Merda. Mi cago. Mentre Luca va su a fare le immagini dalla cascata col drone. Roba che muore. Ce lo vedi qua com'è? In fondo lì cadi. Roba che se lì inciampi e ruzzoli. Ciao. 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 Sto tornando giù dove continueremo le riprese che saranno come al solito low cost, homemade e tutto quello che troviamo lo troviamo sul posto e creiamo le scenografie in maniera più cinematografica possibile l'idea non è quella di mostrare ma di suggerire un'idea perché il 20 ottobre il 20 ottobre perché quando ci siamo inventati questa cavolata all'inizio sapevo avrebbe preso un sacco di tempo e quindi ho pensato di portarci avanti tantissimo era a giugno e quindi ottobre era l'anno dopo quasi sembrava una data così lontana per fare qualunque cosa e tra parentesi in questo momento sono le 22 passate del 19 ottobre questo vuol dire non avere davvero mai tempo ma se fate caso ogni grafica e ogni trailer alla fine di questo portava sempre la dicitura into the wild 20 ottobre 2021 questo è servito ad ancorare visivamente il nome di into the wild alla data 20 ottobre 2021 tanto che alcune persone ancora oggi pensano al 20 ottobre non come una data x ma come l'uscita di into the wild e questo è servito non solo a dare un'importanza al progetto ma ad installarlo molto bene nella testa degli spettatori creare un'aspettativa e dare un valore aggiunto a quello che era il progetto e detto anche tra noi a un certo punto dovevamo essere sicuri che non calasse l'interesse nel mondo della pubblicità si usa spesso una cosa che si chiama spostamento di focus questo perché una volta certi di aver installato molto bene il progetto into the wild nella testa delle persone con una sua data precisa e dei trailer cadenziati ogni sabato e viste anche le tante domande che arrivavano ogni giorno abbiamo deciso di non dare mai risposte ma solo nuove domande ecco perché è nato perché il 20 ottobre non lo sappiamo neanche noi però vi siete scervellati bene troviamo è un campeggio abbandonato ma non è che noi lo sapessimo è che c'era un campeggio abbandonato lo troviamo proprio per caso e allora ovviamente il campeggio abbandonato si presta perfettamente per un'ambientazione di un film in cui non si capisce nulla di quello che deve accadere quel film facendo un giro in questo posto abbandonato abbiamo trovato quelli che sono appunto i vecchi bagni del campeggio e ci è sembrato ideale come set perché c'è veramente tanto degrado tanto abbandono e tante cose rotte sporche abbandonate che ci servivano per dare un mood di abbandono come quello che è into the wild questo è un cartone della pizza c'è scritto ciao il mio cane ha mangiato il cibo per i gatti ho messo in sicurezza il cibo del cane se tu sei d'accordo ok? ok dunque dicevamo la manipolazione passa attraverso il cambiamento delle percezioni ognuno di noi processa le informazioni attraverso i propri filtri e il proprio modo di vedere le cose ma facciamo un esempio oggi il cinema è visto da tutti noi in modo diverso c'è chi ama il cinema horror c'è chi ama il cinema d'azione quello d'amore quello documentario il modo migliore per condizionare uno spettatore è quello di parlare esattamente il suo stesso linguaggio ti piacciono i film horror? lavoreremo su un trailer che parli esattamente di quello che ti piacerebbe vedere ti piacciono i documentari? faremo un trailer che suggerirà alla tua mente che quello che stai per vedere è un documentario ti piacciono i crime? i thriller? pronti? il trailer è servito ma la cosa importante che dobbiamo avere bene in testa è che qualunque aspettativa vi siete mai fatti su Into the Wild rispecchiava in un modo o nell'altro qualcosa che centrava con le vostre aspettative perché sicuramente in un modo o nell'altro ha toccato le vostre preferenze cinematografiche siamo sempre più sottodata all'uscita di Into the Wild ci mancano un po' di scene e siamo di nuovo qui qui una volta io sono morto qui una volta lui è morto e sono già stanco c'è da camminare qua in Olanda troviamo questo cartello applicato credo degli anni 90 in olandese e allora a quel punto diventa che noi siamo andati in Olanda e guarda caso avevamo anche delle immagini girate in treno in quel viaggio lì dove avevamo iniziato per caso Into the Wild e quindi la storia diventa di noi che partiamo inspiegabilmente verso l'Olanda Luca falsifica anche dei biglietti aerei per la Linda a un certo punto ci è stato anche detto che attraverso questi trailer sembrava quasi di vedere già il film raccontavano un po' troppo rispetto a quello che avrebbero dovuto tanto che il film quasi si era già capito ecco un altro tassello che va a testimoniare che l'esperimento funziona non c'è mai stato nessun film ma ognuno di voi aveva in testa un film tutto suo le tecniche di condizionamento servono proprio a suggerire alla tua mente una realtà che ti costruirai da solo ma che non è quella reale stavamo per fare la scena del pugno e poi sono passate dietro due persone questo è oltraggio all'arte cinematografica adesso passa inizia un sacco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, ma dovrebbe essere sporca. Devo mettere della terra. Anzi, sai cosa? Prendiamo un po' di terra per rendere più... Mettitela sulle enocche. Le enocche ci sporchiamo un po' le unghie. La mia idea è quella di tu cammini di là e qui c'è un cadavere abbandonato praticamente, no? Se non prendo l'Oscar, lo giro... Eccola là! Adesso è come la voglio dire. Prova ad andare dove c'è la panchina e cammini lungo a tre. Ciao Luca! Ma questo potete dire molto into the wild. Ma è un film oppure un documentario? Non ti posso dire niente. No, non direi cazzate. Allora dimmi se è un film, no? È un film, un documentario. È quello che ti piace credere? Credilo, insomma. Non ce ne sono alle vero male. 20 ottobre, 20 ottobre lo scopo. Non so, la vita... Guarda, a me c'è la giatta fissa da in fronte. Sa roba, però si è fatto un cagacazzi. Eh sì, lo dicono spesso in questo periodo. Sì, ma come mai? Può sembrare che sia una scherza, no? Che sia una cosa che vi abbiamo raccontato e vi abbiamo preso in giro e quindi, ah sì, alla fine ci avete fregati. In realtà non è vero perché non vi abbiamo fregati dicendo che siamo con Netflix. Vi abbiamo fatto costruire un film in testa. Netflix poi non è stata una scelta così. Netflix è il contenitore moderno di tutto quello che la gran parte della popolazione pensa sia il cinema adesso. In ogni scelta narrativa che abbiamo fatto abbiamo cercato di saturare ogni aspettativa. Oh, è incredibile e tutto questo al buio con una pila. Into the wild. Stavi già riprendendo. Stavi già riprendendo. Ho bisogno del suono di un serpente a suonagli e credo che... Grazie. Avevamo un problema che bisognava uscire dal contesto digitale, cioè non poteva essere un progetto che rimane solo all'interno dei social. e quindi bisognava andare in faccia alle persone fisicamente. Cosa fare, cosa non fare, cosa fare, cosa non fare. Il primo passo è stato verso fine settembre andare sui digital wall. Non eravamo contenti fino in fondo comunque, perché comunque era un monitor digitale e all'interno di un contesto specifico in cui dovevi andarci. e quindi come fai a far capire alla gente che stai facendo sul serio. Cosa fanno i cinema? I cinema fanno le locardine e le piazzano in strada. Va bene, va bene, sta andando bene. Dobbiamo solo portarlo fuori da internet, portarlo un po' più nel mondo reale, quindi alzare l'asticella e puntare a un qualcosina in più, ma ci penso io tranquillo. Ma sei fuori! E abbiamo fatto così, sei metri per tre. A me questi due non mi piacciono proprio per niente. Perché oggi siamo tutti online, siamo tutti in televisione con la testa e non ci sorprende più vedere qualcuno sui media, sui social, perché tanto ormai siamo tutti famosi. E la parte, se vogliamo, più materiale, più cartacea, è quella meno vista. Eppure, in un contesto del genere, nel momento in cui abbiamo deciso di portare fuori dal web tutta questa situazione, mettere le nostre facce su sei metri per tre in mezzo alla città, in quel momento è diventato reale anche per i più scettici. A quel punto i bolzanini che passavano di lì ci vedevano. Ah, ma allora è vero! Abbiamo giocato un po' sui social con questo e a quel punto, siccome è diventato plastico, reale, le domande sono esplose. La missione era di non dirlo a nessuno, perché bastava uno che lo sapesse e venisse fuori la burla. La missione era di non dirlo a nessuno, perché è un po' sui social. Lo sgabello su cui sono è lo sgabello che abbiamo trovato nel bosco e l'abbiamo un po' adottato come mascotte, l'abbiamo caricato in macchina e l'abbiamo portato qui. Volutamente, abbiamo deciso che lo sgabello fosse uno dei protagonisti di questo racconto. Non avremmo mai pensato di avere uno sgabello dentro il nostro film, come non avremmo mai pensato di finire legati sopra un boiler. E questa è la corda che mi ha legato. E qui Luca ha ritenuto che fosse un buon set. Nei post che abbiamo scritto, se andate a riguardarveli, non abbiamo mai parlato di film, documentario, uscita su Netflix. Non vi abbiamo mai detto queste cose qui. Avete deciso voi che erano le vere. Devo solo? Devi solo da basso, praticamente. Immaginati che io sia lì, da così, dal basso. Arrivi anche piano, stando proprio così. E quando sei a due metri da me, fai questo movimento qua, in modo che mi riprendi da sotto e ti fermi. Allora, la scena è questa. Luca e Alan sono seduti qui di schiena. Sono legati con le mani dietro e bendati. Abbiamo un cavo elettrico che ci siamo portati da casa perché è un po' più wild, più brutta come situazione. e ovviamente il polpo alla galega che ha portato Alan per bendarsi. Nel momento in cui passano interminabili secondi di queste due persone, in questa situazione dove lo spettatore medio dovrebbe chiedersi perché, chi se li ha messi, cosa fanno lì, ma capisce comunque che c'è una situazione di urgenza e di pericolo, ecco il momento in cui io mi tolgo la benda e guardando di lato, magari accennando anche un mezzo sorriso, poi vediamo, lasciamo intuire che probabilmente Luca c'entra qualcosa con tutto questo casino. Accenna il mezzo sorriso. Più mezzo sorriso. Perfetto. Più mezzo sorriso. qui tra l'altro è dove abbiamo messo quel legnetto che avete visto in un teaser o in un trailer e poi la prendi vieni ancora avanti fermo così prendi da su un po' 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 oggi siamo qui al bella vista del vedere oggi siamo al virgola il colle dimenticato di bolzano siamo in questa location una piscina abbandonata e è una location perfetta per fare le clip che ci serviranno per questo documentario burla altre scene fatte meglio di noi che corriamo into the wild san genesio to the wild san genesio bello il finale tu arrivi da la corri e ti trovi così quasi da perdere l'equilibrio io ti riprendo da sotto in modo che venga più cinematografico possibile grazie a tutti vuoi dire qualcosa no ok che poi in realtà 20 ottobre 20 ottobre io ho messo 20 ottobre perché così avevamo tanto tempo ma fare tutte queste robe non è che hai proprio tanto tempo siamo neanche a metà del lavoro tanto il lavoro è nel montaggio video e nella color non tanto nella recitazione abbiamo deciso di fare tutte riprese con il telefono con una gopro in modo da semplificare l'obiettivo è se riusciamo a farlo noi dovrebbe riuscirci qualunque persona con un computer e un telefono cellulare la differenza sono le tecniche di comunicazione di persuasione e di condizionamento che si applicano per suggerire alla mente dello spettatore un film che in realtà diventerà solo nella sua testa e non nella realtà vai sì sì vai bella bella questa bella bella vediamo un po' com'è guarda aspetta viene bella bella sai cosa sarebbe bella questa farla al contrario cioè che esce no che la faccio io e che tu stai a guardarmi no guarda l'ora bella via no bella no 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 Da solo non si vede, no, da sotto. Ma come riesci a fare tutto il giro? No, mi fai tutto il giro. Quello è lo sgabello famoso? Che ricorderete? Allora, intanto un ringraziamento particolare al mio amico Alex, che ci ha tornato del cannone senza sapere nemmeno per cosa. Siamo da soli all'interno della fiera di Bolzano perché... Stanno allestendo te. Le amicizie strane ci racconti ci riescono a far avere l'intero padiglione della fiera. Ci hanno lasciati da sole, abbiamo le chiavi e sappiamo che fino a una certa ora abbiamo anche le luci. Oggi facciamo le riprese di quello che è il film che state guardando. Quindi praticamente l'arrivo dove vi spieghiamo la burla di questo Into the Wild e vi spieghiamo che voi siete l'esperimento. tipo che quando fai il nostro mestiere non sei abituato ad avere delle situazioni particolari. Ma diciamo non mi sarei mai aspettato di passare la notte in fiera. Spesso, nella fiera vuota. Quello, quello mai. Quel puntino lì è... è Luca. Cioè visto così è un po' desolante eh. E' proprio una magia alla fine. Il cinema. In conclusione non ne abbiate male. Non siate arrabbiati con noi. Era un esperimento e ha funzionato. Quella che fin dal primo giorno abbiamo chiamato la burla di Netflix finisce qui. Speriamo in questo viaggio insieme di avervi coinvolto, di avervi divertito e magari di avervi fatto scoprire qualcosa di nuovo. Perché in questo mondo di domande ne abbiamo a milioni. Ma di risposte. Oh. Oh.